No, finalmente arriviamo a discutere questa mozione sulla commemorazione del centenario del genocidio degli armeni che avevamo protocollato fin dal mese di gennaio di quest'anno e che è stata iscritta all'ordine del giorno di un paio di sedute di quest'aula e poi per questioni di tempo non è stata discussa. Lo ricordo e è doveroso partire da qui per la semplice ragione che non è strettamente legata a questa mozione come potrebbe sembrare alle vicende di questi giorni che pure sono importanti e che comunque danno risalto a questa mozione. Diciamo che dopo le parole del Papa di domenica scorsa c'è davvero poco da aggiungere in ordine al genocidio degli armeni visto che il Papa sostanzialmente ha detto che commemorare l'immane e folle genocidio del popolo armeno è necessario e doveroso perché cancellarne la memoria significa tenere ancora aperta la ferita e lasciarla sanguinare. Questo ha detto domenica scorsa il Papa utilizzando apposta la parola genocidio e per questo è stato subito censurato e ha subito la reazione abbastanza pesante delle autorità turche e tutto ciò è avvenuto di fronte all'assordante silenzio del governo Renzi e dei suoi ministri che di solito sono molto attivi sul piano comunicativo. Direi che non è male per un Paese che poco tempo fa ha approvato tra mille polemiche il reato di negazionismo. Questa nostra mozione ha fatto discutere prima ancora di essere discussa, mi sia consentito il gioco di parole visto che il console generale turco a Milano aveva chiesto un incontro con tutti noi capigruppo cosa che è avvenuta al venticinquesimo piano e poi anche l'ambasciatore turco aveva chiesto di incontrare il presidente Maroni quindi ha fatto discutere prima ancora di essere discussa e questo è abbastanza discutibile perché tra quando un atto di indirizzo viene protocollato e quando viene discusso in questo lasso di tempo è davvero delicato intervenire perché si rischia di condizionare si rischia di interferire su quelli che sono gli autonomi processi decisionali di quest'Aula. Diciamo che il genocidio e tutta la storiografia, io ho sotto gli occhi un libro importante, l'età criminelle, lo stato criminale, i genocidi del XX secolo di Ternon che è uno studioso francese, tutta la storiografia classifica il genocidio come uno dei grandi crimini di Stato e poiché sorella all'alba del Novecento ci aveva detto che il Novecento sarebbe stato il secolo della violenza proprio i crimini di Stato nell'ambito dei quali possiamo annoverare il nazismo, possiamo annoverare lo stalinismo, possiamo annoverare i crimini cambogiani, possiamo annoverare appunto il massacro degli armeni, il genocidio è stato uno dei tratti della storia del Novecento. Sono gli stermini di massa istituzionalizzati, i genocidi, che vengono compiuti nel nome dello Stato. E' stato un avvocato ebreo che si chiama Lemkin nel 1944 a usare per la prima volta il termine genocidio per indicare la sistematica e pianificata soppressione di massa di una comunità etnica e lo ha fatto Lemkin pensando proprio alla comunità armena e alla comunità ebraica, lo ha fatto nel 1944. Solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la comunità internazionale ha proceduto a classificare il genocidio e ha proceduto a classificare il genocidio tra l'11 dicembre del 1946, quando viene approvata una risoluzione da parte dell'Assemblea dell'ONU, una risoluzione che viene successivamente ratificata nel dicembre del 1948. Tuttavia il problema, come ho avuto modo di sottolineare alla console turca quando l'abbiamo ricevuta come capigruppo, non è un problema che si colloca nelle pieghe del diritto internazionale, cioè non è un problema per cui bisogna fare arroccarsi di fronte al fatto che è genocidio, non è genocidio, è un massacro, non è un massacro. Chiamiamolo come vogliamo. Qui il problema è di natura storica e di natura politica. La vicenda è a tutti nota, soprattutto dopo le parole del santropadre di domenica scorsa e delle ricostruzioni giornalistiche che sono state fatte in questi giorni, tra domenica e oggi. Sul finire del secolo XIX gli armeni furono oggetto delle prime persecuzioni e dei primi ecidi. armeni che costituiscono sicuramente la comunità cristiana più antica del mondo e abitano quel territorio che è nei dintorni del monte Ararat, una specie di cuneo tra l'Anatolia e il Caucaso. Le persecuzioni si inaspriscono poi all'inizio del Novecento, con l'affermarsi di un movimento, che è il movimento dei giovani turchi, un movimento ultranazionalista, che è impegnato a realizzare una nazione etnicamente omogenea attraverso l'enfatizzazione di un disegno perverso pan-turco che è tranquillamente assimilabile al pan-germanesimo, al pan-slavismo dal punto di vista delle dottrine politiche. I giovani turchi, che la storiografia anche in Italia ha celebrato nel corso degli anni Settanta, entrarono nella giunta, cioè nell'unità di governo del vecchio impero ottomano all'inizio del Novecento e a partire dal congresso di Salonico dell'Undici decisero proprio la soppressione fisica del popolo armeno, perché l'obiettivo era quello di costruire uno Stato monoetnico e alla fine saranno circa un milione e mezzo gli armeni oppressi, perché il disegno dei giovani turchi era quello di trasformare il vecchio califato, il vecchio impero ottomano, in una moderna monarchia costituzionale e quindi l'arretramento dell'impero ottomano e la trasformazione in una moderna monarchia costituzionale non poteva ammettere al suo interno l'esistenza di comunità dal punto di vista etnico, culturale, religioso, diverse da quella prevalente per cui si accanirono con particolare ferocia nei confronti del popolo armeno. Il popolo armeno che rivendicava per effetto del principio di autodeterminazione un suo disegno di autonomia e di indipendenza rispetto all'impero ottomano. E' contro questa operazione di pulizia etnica e di qui la pertinenza del termine genocidio, ma possiamo chiamarlo anche massacro, non è un problema di tipo giuridico internazionale, è un problema di tipo storico, di tipo politico. Gli armeni furono oggetti di questo genocidio particolarmente efferato che, come ha ricordato il Papa domenica scorsa, è stato davvero il primo genocidio del XX secolo. Costò, come dicevo prima, oltre un milione di vittime, generò un popolo in esilio, quale il popolo armeno, un esilio che ha toccato anche la nostra Milano, che ha toccato anche la nostra Lombardia. Come dicevo prima, il genocidio fu anche l'esito dell'arretramento dell'impero ottomano dal primato sui Balcani e nel Mediterraneo orientale. E quindi fu l'effetto della trasformazione di questo califato in una moderna monarchia costituzionale che costò il sangue appunto del popolo armeno. Sulla scia delle sollecitazioni dei giovani turchi che appunto avevano in animo quest'operazione di pulizia etnica, una pulizia etnica che avrebbe successivamente ispirato per sua stessa missione lo stesso Hitler. Si tratta di un evidente modello di applicazione della teoria sociologica del capro espiatorio, quella del genocidio del popolo armeno. Per questi motivi, per censurare un evento che la storia del Novecento ha segnato così in profondità, sarebbe opportuno che in quest'Aula, in questa regione, noi non ci dimenticassimo davvero del centenario del popolo armeno, che quest'anno cade in una circostanza del tutto particolare, cioè cade tra il settantesimo della liberazione e il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Quindi rischia di essere soffocato da questi due eventi, dal settantesimo della liberazione e dal centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Per questa ragione ci siamo sentiti di concepire questa mozione, proprio per ricordare a quest'Aula che cento anni fa è esistito anche il genocidio del popolo armeno e auspicare che quest'Aula ricordi, questa regione ricordi, magari con un'iniziativa pubblica, il centenario del popolo armeno. La lista Maroni lo farà con un piccolo convegno perché è l'atto che dobbiamo a una delle grandi mistificazioni storiche della storia del Novecento. Grazie.